Sì. Allora eh buongiorno a tutti eh sono il segretario generale di città solo internazionale qui di fianco a me c'è il nostro presidente Mauro Migliorini il sindaco di Asolo presidente di Cittaslo International grazie per la vostra partecipazione grazie anche alla stampa per l'attenzione e a tutti i relatori che poi andrò a presentare eh solo due parole di eh salute di introduzione da parte mia come sapete le parole chiave di Cittaslo sono economia circolare sono cittadinanza attiva sono resilienza e proprio sulla parola resilienza tanto anche abusata talvolta in questi mesi eh purtroppo di di covid beh lo sappiamo eh in biologia eh eh è la capacità della cellula di resistere ma anche di prosperare quando cambiano le condizioni esterne fisiche o chimiche. Questo concetto eh direi semplice viene adattato anche ai sistemi sociali. e le Cittaslo che cosa sono? Sono organizzazioni vive, sono città, sono comunità e ovviamente seguono fin dall'inizio nel millenovecentonovantanove eh questi principi. Ma Cittaslo non è solo un progetto economico e sociale per le città e per il loro territorio e anche un hub dice così usando un anglismo per le soluzioni. Soluzioni per chi? Per gli amministratori, per eh ovviamente gli amministratori pubblici, i sindaci, per i cittadini, per le imprese. È un percorso di rete per darci futuro noi diciamo in estrema sintesi scusate eh non possiamo qui eh dilungarci. E il tema il tema della resilienza e del darci futuro è estremamente eh sentito anche attuale proprio in questi tempi di covid post covid. il progetto Cittaslo B e che presentiamo oggi con il manifesto di Cittaslo B è esattamente questo, un passo direi importante in questa direzione, l'AP come indicatore eh biologico e anche come eh essenziale protagonista della qualità agricola e ambientale, ma anche tutto questo all'insegna della concretezza. è sì un manifesto ma se poi eh avrete modo di vedere il dettaglio troverete un elenco delle piante eh ed eh appunto specializzate per eh le api e questo è un esempio molto preciso di concretezza da parte dei sindaci di Cittaslo. Io per ora non aggiungo altro, lascio subito spazio al nostro presidente eh Mauro Migliorini, sindaco di Asolo e poi successivamente a tutti gli altri importanti relatori che daranno contributi, contributi anche sulle esperienze nel mondo delle api considerate dall'Italia fino alla Colombia. abbiamo anche un contributo della Cittaslo eh nel Chindio in eh Colombia. Bene, prego. Grazie per Giorgio, grazie segretario. Allora buongiorno a tutti, vi ringrazio sia i presenti in sala che eh le eh numerose persone che sono in eh collegamento. un eh particolare saluto però lo voglio dare alla eh all'onorevole Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente e Camera dei eh deputati che è in collegamento con noi, mentre il sottosegretario di Stato del Ministero della Transizione Ecologica, l'onorevole Vagna Gava ci ha comunicato che non può essere presente, ha mandato un messaggio che poi vi eh leggerò. un saluto anche alla eh dottoressa Serenella Mortani che è il segretario generale dell'Associazione Nazionale delle Città del Miele che le rappresenta eh oggi. Un saluto perché ho letto un messaggio al signor Eugenio Sartorello che oltre ad essere un grande esperto delle api tra pochi giorni compirà cento anni quindi va sicuramente a lui il nostro abbraccio e grazie di essere eh collegato eh con noi. inizio con due date e alcuni in un maggio è la giornata mondiale delle api. Il ventidue maggio è la giornata mondiale della biodiversità. recenti i dati dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ci dicono che più del quaranta per cento delle specie di invertebrati in particolare api e farfalle che garantiscono l'impollinazione rischiano di scomparire. in Europa il nove per cento delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il settanta per cento di l'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garant. il quale. Non si sente bene. Non si sente più. Il 35 per cento. Si sentite chiedo. Era interrotto si era. Riprendo. Si sente meglio? Le api domestiche selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali e viventi sul pianeta e garantiscono il 35% della produzione globale di cibo, ma in natura svolgono un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema, ecosistema che vuol dire biodiversità. Si stima che l'87% delle piante selvatiche in fiore del mondo dipendono almeno in parte dall'impollinazione, ma non solo le piante selvatiche. Infatti è dimostrato che il 70% delle 115 culture agrarie di rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione. In Europa oltre 4000 differenti specie vegetali continuano a prosperare e a riprodursi attraverso l'umile e preziosa azione delle api. Le api forniscono inoltre preziosi prodotti dell'alveare, quali miele, polline, papareale, cera, propoli, ecc. Da sempre utilizzati ed apprezzati dall'uomo, da sempre fonte di reddito. Poi sentiremo dalla direttrice delle città del miele, Serenella Mortani, come l'Italia è l'unico paese al mondo a vantare oltre 60 diverse tipologie di mieli, molte delle quali uniche proprio in virtù delle loro radici locali. Ovvio che di fronte ad una crisi generale delle api, il danno sarebbe immenso e probabilmente irreversibile. Imputata oggi è anche l'agricoltura industriale ed intensiva, che utilizza in quantità pesticidi chimici. Pianta monoculture, adotta pratiche agricole distruttive, è indifferente alla biodiversità. Come se non bastasse, anche i cambiamenti climatici stanno aggiungendo stress e pericoli nella vita delle api. In considerazione del ruolo di motore propositivo che hanno le comunità Cittaslo per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile, per la riqualificazione dei territori e per la tutela dell'ambiente, le Cittaslo italiane propongono l'iniziativa Cittaslo B, le api Sentinella per la vita. Un progetto aperto, una sorta di cantiere, di sensibilizzazione alla salvaguardia delle api. Le api, quali indicatori della biodiversità, della salubrità ambientale e della tutela ambientale. Un progetto a cui hanno aderito le Città del Miele, che formano una importante rete nazionale che dà origine e identità ai miei italiani. Una rete al fianco degli apicoltori locali e degli enti territoriali di tutela ambientale per salvaguardare i preziosi immenottili. Una proposta che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Il progetto coinvolge le 87 città della rita italiana delle Città del Buon Vivere e il Network Internazionale, 300 città in tutto il mondo, con azioni concrete rivolte alle amministrazioni e ai cittadini. Portando suggerimenti per le amministrazioni comunali, come la semina di fiori ed essenze millifere lungo i cigli stradali in marciapiedi, la piantumazione di piante autoctone, la concessione in uso gratuito di aree pubbliche per l'installazione di apiari, il rispetto dei protocolli di fitosanitari locali, il divietto di utilizzo di fitosanitari ad azione erbicida nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, la cooperazione con associazioni locali di apicoltori, corsi alla popolazione di educazione ambientale e tutela della biodiversità, organizzazione di passeggiate tematiche, programmi di educazione alle api nelle scuole di ogni ordine e grado. E azioni concrete anche per la cittadinanza, come suggerendo giardini e balconi fioriti, che diventano rifugio per le api. Creare quindi piccoli habitat nel contesto urbano per le api, coltivando piante e fiori capiacci di nutrirle, aiutandole a non estinguersi. Ecco quindi semplici azioni per le api in primavera o quali piante scegliere per l'estate o per l'autunno. In poche parole, piantare fiori autoctoni sul proprio giardino o balcone significa dare a questi insetti un porto sicuro in cui sostare e rifucilarsi. E per gli agricoltori? Proponiamo ad esempio filari e sieppi impiantati ai margini del campo, perché aumentano l'abbondanza di impollinatori selvatici, come pure la rotazione delle culture, che può incrementarne l'abbondanza, che a loro volta migliorano la resa delle culture e la redettività dell'azienda. Queste pratiche di ingegneria ecologica conservano anche i nemici naturali di parassiti che attaccano numerose ed importanti culture. Cittaslo ritiene che le api siano le sentinelle della biodiversità e le sentinelle per la vita. L'APE è il bioindicatore del nostro ecosistema. Per questo, le Cittaslo adottano e propongono il manifesto Cittaslo B, concretamente per le api sentinelle della biodiversità. e in occasione di diversificare la campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia delle api. Cittaslo B, le api sentinelle per la vita. Grazie sindaco e presidente. Cosa facciamo adesso? Leggiamo il messaggio del sottosegretario Vagna Gava. Leggi tu? Allora, vi leggo quanto ci ha mandato oggi il sottosegretario Vagna Gava. Carissimi, purtroppo impegni istituzionali non mi permettono di essere in collegamento con voi in occasione della conferenza stampa organizzata sia per lanciare le attività difesa della biodiversità e delle api in previsione della giornata mondiale delle api e della biodiversità con cadenza rispettivamente il 20 maggio e il 22 maggio sia per diffondere il manifesto Cittaslo B. Tale iniziativa è molto importante per mettere in risalto quanto l'ape sia un insetto la cui importanza non deve essere solo rivolta alla sua attività di impollinazione e produzione di miele ma anche e soprattutto alla sua azione ai fini della tutela della biodiversità intesa come la coesistenza in un determinato ecosistema di molteplici specie sia animali che vegetali nel quale si crea un equilibrio attraverso le loro reciproche relazioni. Tra l'altro, recenti studi hanno accertato che l'ape, oltre a contribuire all'impollinazione dell'80% delle piante superiori a fiore, svolge una funzione fondamentale che riguarda la tutela della salvaguardia e del ripristino della vegetazione anche in quelle aree del mondo dove gli ambienti sono molto deteriorati con il possibile pericolo del verificarsi di calamità naturali quali alluvioni, frane, erosione e desertificazione. Pertanto, senza di esse, molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale. Sia le api domestiche che le selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Tutelare le api significa anche tutelare l'apicoltura attività economica praticata dall'uomo fin dall'antichità come è stato dimostrato dal ritrovamento di ricimpienti contenenti mieli nel corso di scavi archeologici compiuti in Egitto e che ancora oggi ha un'importanza per nulla trascurabile nelle aree rurali in quanto assicura alle comunità presenti la capacità di produrre reddito e il presidio territoriale. Condividendo il progetto e gli obiettivi prefissati dalla città SLO auguro un buon lavoro a tutti. Onorevole Vagna Gava. Grazie Grazie anche per il servizio di lettura impeccabile al nostro Presidente e procediamo con l'onorevole Alessia Rotta che ringraziamo e con noi Presidente della Commissione Ambiente e Camera dei Deputati che ci segue e ci supporta. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Bene, allora io sono molto grata a voi per questo invito per quello che fate e davvero sono contenta di essere qui perché io continuo a ripetere alcune cose rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che io preferisco chiamare Next Generation EU perché appunto parliamo del futuro e cioè che questo piano funzionerà o non funzionerà e queste risorse saranno diciamo ben spese solo se ci sarà un patto nuovo anche tra istituzioni, privati e cittadini cioè se questa contaminazione le api ci raccontano questa grande storia di impollinazione e questa contaminazione deve valere anche per il periodo che stiamo vivendo e per la grande più che sfida la strada obbligata e allora il vostro lavoro il lavoro dei comuni in questa partita con un obiettivo ben preciso che sembra piccolo, parlare di api può sembrare diciamo fuori dal mainstream quando la transizione, grandi paroloni l'economia circolare eccetera eccetera ma in questo diciamo io ho trovato ispirazione in quello che Virgilio diceva si parve a licet, componere, magnis cioè dove paragonava il lavoro delle api a quello dei ciclopi e allora quello che il lavoro di amministratori comunali di sindaci che i sindaci fanno che è sia occuparsi dei grandi problemi dei cittadini dei grandi e piccoli problemi di tutti i giorni in questo senso io credo che sia un segno molto molto forte e particolarmente diciamo significativo e perciò vi ringrazio per dire che cosa poi molto brevemente che naturalmente sapete che la battaglia sulla biodiversità è stata anche una battaglia parlamentare perché troppo poco così abbiamo denunciato era previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza e siamo convinti che ancora adesso questo diciamo sia un capitolo con 1,69 miliardi di azioni dedicate alla biodiversità che apparentemente è un capitolo apparentemente sostanzialmente è un capitolo ancora piccolo ma io credo nella connessione tra le varie azioni che ci sono che in realtà dà grande spazio e margine mi riferisco cioè alle iniziative relative all'agricoltura relative ai borghi quindi ci sono tante azioni trasversali nelle quali sarà importante poi io voglio dire insinuare tante sono quelle elencate anche oggi nel manifesto che avete eletto e soprattutto che presentate quindi da parte mia da questo punto di vista lo dico subito, l'ho già detto al Presidente a tutta Città Slow la mia piena disponibilità e le porte naturalmente sono aperte dico che i dati non li voglio ripetere qui li conosciamo tutti quelli della Moria delle Api quella di un grande allarme già lanciato da molti anni con le cause altrettanto note che quindi non ripeterò qui ma che sappiamo insomma quali sono prima di tutto è quella che vorrei citare quindi le prime o meglio quelle che particolarmente ci interessano e sulle quali noi possiamo agire come legislatori nazionali in seno naturalmente all'Europa sono particolarmente due sono quelle dell'utilizzo dei pesticidi che causano la mortalità delle api e il secondo è quello dei cambiamenti climatici pur rilevanti con il degrado alla fermentazione degli habitat con gli effetti dell'agricoltura intensiva che va naturalmente in questo senso in controtendenze quindi l'aspetto fondamentale è che tutto questo ha una causa che potremmo dire trasversale che è il fattore antropico cioè la responsabilità dell'umano che come noi dobbiamo invertire il nostro modo di vivere il processo lineare di produzione perché se continuiamo così mangeremo diciamo questi sono dati sempre europei entro il 2050 tre pianeti in termini di risorse umane allo stesso modo io ragiono in questi termini cioè che noi non possiamo mangiare non possiamo fare a meno di un elemento caratterizzante la biodiversità non solo per l'antichità del lavoro sulle api ma per la loro funzione di sentinelle per la vita e per l'ambiente a cui noi tutti siamo chiamati con grande senso di responsabilità io direi che le api sono le prime custodie e noi siamo solo i portatori la città slow in questo senso fa un grande lavoro i portatori di questo messaggio cioè di agevolare quelle che questi animali che da soli per se stessi appunto hanno garantito per secoli nel silenzio del loro lavoro non solo la produzione ma appunto il mantenimento di un ecosistema che è messo a rischio da tanti fattori che prima appunto ho cercato di dire quindi le creazioni fondamentali che noi dobbiamo fare sulle quali dobbiamo muoverci sono il mantenimento della biodiversità e questo anche ci aiuta in questo senso io voglio dire la PAC e non solo le zone economiche ambientali quindi le ZEE ma anche la PAC e voglio ricordare che in questo senso è prescritto nero su bianco da parte della politica agricola comunitaria che cita esattamente le API nel garantire tra le priorità appunto del piano di azione nazionale cioè garantire la tutela degli impollinatori e delle API di relativi servizi ecosistemici voglio anche ricordare che la PAC dell'Unione Europea insieme agli allarmi ovviamente presi dall'EFSA quindi dalla nostra agenzia di sicurezza ambientale in questo senso sul tema dei pesticidi sono particolarmente attenti e questo quando parliamo di agricoltura di qualità è quello che dobbiamo dobbiamo perseguire così come dobbiamo perseguire una sicurezza alimentare la sicurezza alimentare che è evidentemente nemica diciamo dei cambiamenti climatici in questo senso noi stiamo lavorando con missioni che qui non sarò a dilungare ma sapete bene il 37% delle risorse del nostro piano sono destinate a questa transizione e questa transizione si confà con degli obiettivi particolarmente stringenti al 2030 al 2050 sulla riduzione delle emissioni ridurre le emissioni significa non solo diminuire la temperatura ma significa che i cambiamenti climatici cheppure sono parte del problema riguardante le api vengano diciamo risolti attenuati in un primo momento ma comunque risolti sempre in tema di preservazione la terza azione è quella dell'incentivo cheppure è presente fortemente nel PNRR che è una direzione verso la quale occorre obbligatoriamente muoversi è quella di una economia che vada verso le zone cosiddette marginali o per meglio dire rurali quindi tutti gli incentivi parte dei quali sono anche oggetto del vostro manifesto sono essenziali sono per fortuna scritti anche nero su bianco sul PNRR che è un piano che io dico che guarda a tutte quelle che sono apparenti marginalità ma in realtà credo che da queste questa agricoltura di nicchia da queste attenzioni che forse sono state alle volte date per scontato e marginali si determina molto evidentemente che è da parte di questi che noi abbiamo i veri polmoni diciamo di salute del nostro territorio e vi comprese appunto il ruolo di vigili vigilesse a meglio che sono le api sulla nostra salute e quindi da parte nostra massima disponibilità naturalmente ma anche davvero le mie sincere congratulazioni attestazioni di stima e ringraziamento per quello che fate se non ci fosse questa rete di educazione a chilometro zero proprio rispetto ai cittadini e coinvolgimento dei cittadini noi delle pagine scritte nel PNRR delle risorse ce ne faremo davvero ben poco perché il punto è che tutti siano coinvolti perché è la verità siamo tutti coinvolti e io penso che ci sia da parte dei cittadini anche un atteggiamento veramente di grande apertura che non vedono l'ora di essere coinvolti dalle istituzioni e chi più nel ruolo di prossimità un po' come quello delle api sono i sindaci e gli amministratori più di voi nessuno può quindi da parte mia la piena collaborazione la mano c'è e le porte aperte naturalmente della commissione pronta ad aspettare per iniziative anche in presenza visto che tra poco si potrà anche effettivamente grazie ancora davvero grazie grazie onorevole Alessia Rotta per le parole quasi un un contromanifesto di supporto a Cittaslow ci ha descritti e la ringraziamo anche per essere entrata nel dettaglio di tanti aspetti certamente noi quando si parla di economia sostenibile le parole sono piuttosto abusate e invece bisogna riempirle di contenuti quindi benvenga noi operiamo da sempre come piccole città e talvolta abbiamo anche qualcosa da insegnare al mainstream e alle grandi città e questo è un po' l'orgoglio ma anche l'impegno quotidiano dei sindaci Cittaslow agrobiologia sicurezza alimentare salute sicuramente sono e anche rete educativa educazione civica Cittaslow come un modo di educazione alla cittadinanza grazie procediamo quindi ed entriamo ancora più nel merito di api e miele con Serenella Mortani segretario generale dell'associazione nazionale Città del Miele che ha appunto patrocinato e ci accompagna in questo manifesto Cittaslow B prego Serenella innanzitutto buongiorno a tutti e riporto anche i saluti del presidente Vincenzo Vincenzo Parlato sindaco di Sottino che in questo momento appunto è alla presidenza delle Città del Miele quando il presidente Migliorini ci ha sottoposto il manifesto per condividerlo la risposta delle Città del Miele non poteva che essere sì ovviamente va anche rilevato che come territori del Miele l'attenzione sollecitata dalla giornata mondiale in difesa delle api per i nostri territori è una giornata che dura 365 giorni all'anno perché perché l'importanza delle api sui nostri territori è scontata ma quello che va comunque sempre tenuto presente è che il valore delle api è custodito protetto alimentato da quello che sono i nostri agricoltori troppo spesso parliamo di api e magari diamo per scontato quello che è l'attività di apicoltura perché è vero le api producono il miele ma sono gli apicoltori che al loro fianco e stiamo parlando per quanto riguarda l'Italia che i cittadini delle nostre armi cioè le api sono oltre 132 miliardi in Italia l'Italia come diceva prima come ricordava prima il presidente Migliorini è leader nel mondo non solo per qualità di prodotto miele ma anche e soprattutto per la diversità dei mieli oltre 60 diverse tipologie di prodotti che attenzione molti dei quali sono esclusivi al mondo proprio in virtù del territorio dove che ospita le determinate fioriture l'attenzione al ruolo delle api per quanto riguarda le città del miele è come dire un'attenzione che addirittura è all'origine della nascita della nostra rete nazionale infatti era il 1999 quando i sindaci delle città del miele considerate tali perché per un impegno storico dagli apicoltori italiani scendevano in piazza a Milano per chiedere l'attenzione verso le attività e il patrimonio apistico italiano si trattava è stata direi la prima pietra che ha costituito proprio la nascita delle città del miele che è avvenuta poi nel 2001 quest'anno noi compiamo vent'anni di lavoro a fianco diciamo così degli apicoltori e dei territori del miele quando parliamo di api e come è stato rilevato anche dal presidente della commissione dall'onorevole Riotta parliamo attenzione di apicoltura e quando parliamo di apicoltura parliamo del dialogo che l'apicoltura è tenuta ad attivare con il mondo agricolo è solo del 2004 la legge che riconosce nel nostro paese l'attività di apicoltura e nel 2008 nasce il primo decreto ministeriale contro l'uso dei nicotinoidi in agricoltura sollecitato anche dalle città del miele all'epoca con un incontro con il ministro dell'agricoltura il decreto che ha oltre ormai dieci anni viene costantemente prorogato annualmente e anche grazie alla legge del 2008 europea che vieta appunto l'uso dei nicotinoidi in agricoltura l'auspicio è che questa proroga si traduca prima o poi in una legge proprio a tutela sia della qualità agricola sia della qualità apistica questa breve cronistoria perché quasi sempre dietro diciamo così a questo piccolo e utile insetto c'è comunque un mondo produttivo che non va mai sotto valutato questa cronistoria che vi ho dato cioè l'interesse dei sindaci di piccoli comuni verso l'attività apistica è diciamo così alle ragioni per all'origine delle ragioni per cui noi condividiamo il manifesto di Città Slow perché parafrasando la missione dei nostri padroni di casa il lavoro svolto dalle città del miele in questi vent'anni è stato un lavoro molto slow cioè di azioni piccole silenziose a supporto diciamo così anche dei e rispettoso direi dei ruoli di sistema che ci circondano perché è opportuno diciamo sostenere il manifesto per evidenziare il ruolo che possono avere quelli che noi definiamo movimenti territoriali città slow città del miele città del vino dell'olio e tanti altri perché mettere in primo piano le tante diverse qualità territoriali del nostro paese non significa solo promuovere attività economiche specifiche ma soprattutto evidenziare le peculiarità dei nostri paesaggi paesaggi talvolta molto piccoli ma tutti ricchi di storia tradizioni sapori locali e soprattutto la passione e l'impegno umano che tante piccole cittadinanze a dimensione contenuta riservano a conservare il loro territorio consapevoli di essere questi piccoli centri parte importante del grande patrimonio storico e paesillicistico italiano perché unire le forze e lavorare insieme ad altri che ci legano affinità chiamiamole elettive di missione significa veramente dare tutti un qualcosa di più a quello che può essere lo sviluppo reale delle cose e perché insieme vuol dire sempre qualcosa di più la giornata mondiale delle api è uno stimolo a ricordarci anche che l'apicoltura è una voce economica importante qualcuno la definisce la cenerentola del mondo agricolo però senza quella piccola cenerentola non avremmo il valore economico che le api danno all'impollinazione un valore stimato in oltre 2 miliardi di euro non possiamo non rilevare che questo lavoro vede attivi ogni santo giorno oltre 62 mila apicoltori in Italia siamo il quarto paese in Europa per numero di alveari 1 milione 734 mila la produzione nazionale di miele supera le 23 mila tonnellate e un valore di 61 milioni di euro a questi dati economici diciamo così importanti legati all'attività apistica è anche giusto ricordare proprio per evidenziare il ruolo di associazioni come le nostre che sono anche valori economici per quanto riguarda le città del miele il nostro valore promozionale dato da 40 territori uniti in un sistema rete di collaborazione costante vede la partecipazione indiretta di oltre 180 mila cittadini tiri sui territori del miele la partecipazione anche dei nostri territori ci consente di offrire ogni anno un'agenda annuale di appuntamenti di quasi 20 eventi appuntamenti che ogni anno propongono il mondo delle api i miele e diciamo così l'importanza dell'attività apistica insieme con questi 20 appuntamenti le città del miele fanno un investimento collettivo di quasi 500 mila euro è una promozione che non non è rivolta solo ai territori è rivolta proprio al mondo delle api e cosa significa e quale beneficio dà il mondo delle api la nostra agenda annuale degli appuntamenti del miele riunisce qualcosa come 300 mila consumatori dando vita a quello che è un movimento turistico del miele io credo che tutte queste mettiamo insieme questi valori economici e evidenzio l'importanza dei valori economici perché senza quelli diciamo così chi ha in mano la gestione della cosa pubblica non rileverebbe l'importanza delle api dietro le api c'è un sistema economico che coinvolge non solo l'apicoltura l'industria dolciaria coinvolge tutta la commercializzazione dei prodotti dell'alveare coinvolge persino consentitemi l'apiterapia che è vero che in Italia tra virgolette è un po' sconosciuta ma in molti paesi d'Europa appartiene diciamo così a una disciplina riconosciuta dico questo perché talvolta associazioni come le nostre pongono in primo piano un'attività come dire utile non solo ai territori che la compongono ma utile anche a quel disegno collettivo a cui molte associazioni tengono che è quello di tutelare un patrimonio naturalistico e enogastronomico che è la base del successo del made in Italy nel mondo grazie Serenella veramente importante il contributo vostro come associazione anche come i singoli soci della rete di apicoltori italiani e internazionale diciamo avete al vostro fianco i sindaci città slow come front desk abituati a risolvere i problemi sui territori e questo è il problema sta diventando il problema dei problemi come stiamo evidenziando oggi quindi altro che Cenerentola la principessa insomma ci auguriamo tutti che Cenerentola diventi presto una principessa della sostenibilità grazie adesso procediamo con alcuni abbiamo sei interventi flash mi raccomando a tutti sotto i cinque minuti massimo proprio di intervento e sono progetti per le api che sono stati già fatti non sono progetti in progetto ma progetti realizzati ed è la cosa fondamentale a proposito del richiamo alla concretezza che viene da più punti cominciamo da Acqua Pendente una città slow in provincia di Viterbo e abbiamo il direttore della riserva naturale Monte Ruffeno Massimo Bedini che ci parla della sua esperienza a difesa appunto della biodiversità tra ambito naturalistico e diciamo di natura selvaggia natura non addomesticata e ambito rurale buongiorno buongiorno a tutti grazie per l'invito all'organizzatore di questo importante convegno allora noi come riserva naturale la riserva naturale fa parte del sistema delle aree protette della regione Lazio stata istituita nel 1983 e fin dai primi anni 90 abbiamo aperto le porte agli apicoltori della zona facendo ospitare all'interno dell'area protetta le arnie con gli alveari di proprietà di questi apicoltori e permettendo così di etichettare il miele che veniva prodotto con miele Monte Ruffeno successivamente consapevoli che l'attività di bottinaggio delle api e quindi quello che le api raccolgono nettare polline e melata è fortemente collegato all'ambiente contribuente in misura significativa alla sua salvaguardia alla conservazione della biodiversità la riserva naturale aderito intorno al 2012 2013 ad un'iniziativa un progetto regionale che si chiamava Salviamo la Regina che consisteva nel formare alcuni operatori dei parchi del Lazio nella gestione degli alveari e di fornire alle aree protette due alveari per poter monitorare l'ambiente che le api che erano ospite in queste arnie visitavano considerando che ogni anno una colonia trasporta circa 20 kg di polline e 220 kg di nettare emerge chiaramente quanto le caratteristiche del territorio e delle sue peculiarità tipologiche botaniche possono determinare la qualità e la quantità di prodotti apistici in modo particolare il miele e il polline consentono di ricostruire una vera e propria impronta digitale delle caratteristiche botaniche delle aree visitate da queste api inoltre l'alveare può essere considerato e impiegato come un sofisticato strumento di indagine e quindi inteso come una stazione di monitoraggio per rilevare la presenza nell'ambiente di agenti inquinanti da questo da questi due anni di monitoraggio è emerso che nell'ambiente della riserva e nell'ambiente circostante non emergevano criticità da un punto di vista della qualità dell'ambiente nonostante questo noi abbiamo voluto continuare questa attività di monitoraggio con fondi propri della riserva e stipulando una sorte di intesa con il centro di ricerca del miele dell'università di Torvergata dove ogni anno noi portiamo dei campioni di miele e di polline ad analizzare in modo particolare noi analizziamo questi prodotti dell'alveare da un punto di vista dell'inquinamento di pesticidi quindi fitofarmaci che sono impiegati in agricoltura di antibiotici che sono impiegati negli allevamenti zootecnici di insetticidi anch'essi impiegati nell'agricoltura e di due metalli pesanti che sono il piombo e il cadmio dagli analisi che sono emersi in questi cinque anni dal 2016 al 2020 è scaturito che dalle analisi del miele e del polline non siamo al di sotto per quanto riguarda il piombo della contaminazione a livello nazionale ci sono annati in cui il piombo è assente come presenza nel miele e nel polline e nell'annate dove è presente non supera i 70 microgrammi per chilogrammo quello invece che ci turba un pochino di più è il cadmio il cadmio specialmente nel polline nel 2020 abbiamo una presenza notevole rispetto agli altri anni che si attestava intorno ai massimo 40 microgrammi per chilogrammo nel 2020 è saltato a 207 microgrammi per chilogrammo a fronte di questi dati noi non abbiamo individuato la la causa di questa inquinamento e per questo ci stiamo muovendo con il mondo accademico per vedere di scoprire la causa sicuramente è legata ad un'attività antropica dell'uomo sicuramente è legato al discorso delle piogge acide però la fonte di inquinamento da parte di questo metallo pesante ancora per noi è ignota e quindi sarà un una un obiettivo che noi ci siamo dati a breve e medio termine per andare a individuare appunto questa causa attraverso la partecipazione di del mondo accademico inoltre per quanto riguarda sempre il mondo delle api noi facciamo svolgiamo ormai da anni un progetto che è api e dintorni chiamati per quanto riguarda le scuole locali del dell'obbligo quindi dalla scuola materna alle medie con i nostri coeratori facciamo attività di sia frontali che sul campo per far sensibilizzare questi ragazzi all'importanza delle api e alla sua tutela e conservazione inoltre per quanto riguarda attività legate al mondo della popolazione più adulta abbiamo organizzato diversi incontri a livello locale per informare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle api e sull'importanza dei prodotti dell'alveare a livello nutrizionale scusa Massimo dobbiamo rispettare i tempi prego sì ho terminato alcuni relatori che abbiamo invitato sono Paolo Fontana che è il presidente dell'Associazione Mondiale sulla Biodiversità del VBA poi la dottoressa Piana che è considerata una dei maggiori esperti a livello mondiale sul miele e l'agronomo Marco Valentini che è il primo firmatario del trattato scientifico sulla biodiversità questo è quello che noi facciamo nel nostro piccolo cercando appunto di informare e sensibilizzare la popolazione convinti che un detto ambientalista di alcuni anni fa sia ancora sia ancora vanido sia agire localmente e pensare globalmente grazie 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 Massimo e complimenti per le attività che fate non siamo tranquilli ma comprendiamo bene che non solo l'APE è un indicatore biologico per la sua stessa esistenza è più o meno buona ma anche il miele è un indicatore della qualità della salubrità del nostro ambiente in cui viviamo allora ora procediamo con un'altra esperienza già avviata importante vedo già l'assessore Yuki Demiglia pronta dal comune di Belluno Città Slow il progetto che ci illustra il progetto Be Our con Cipra Internazionale Conferenza Internazionale Protezione delle Alpi buongiorno a tutti e grazie a voi ringrazio nuovamente il segretario il presidente per l'interesse dimostrato verso questo progetto e anche per questa ulteriore opportunità di divulgazione del progetto sperando che insomma possa essere colto come una buona pratica replicabile anche in altre città cercherò di essere brevissima e vi lascio ovviamente i miei contatti eventualmente per ulteriori informazioni il progetto che abbiamo portato avanti a Belluno si è svolto nell'ambito appunto di questa collaborazione con Cipra Internazionale ed è stato finanziato anche sostenuto dal Ministero dell'Ambiente tedesco noi collaboriamo spesso con Cipra anche all'interno dell'Associazione Città Alpina dell'Anno di cui siamo soci e questo è proprio uno dei progetti a cui appunto abbiamo partecipato insieme è nato nel 2019 e ha visto coinvolti 25 comuni dell'arco alpino ognuno ha presentato un progetto diverso l'obiettivo era quello di coinvolgere proprio attivamente i comuni nella protezione delle api però ognuno poteva avere un'idea progettuale diversa e da poco c'è stata tra l'altro la restituzione internazionale di tutti i 25 progetti quindi uno scambio molto interessante per quanto riguarda il nostro progetto noi abbiamo coinvolto quindi il comune di Belluno ha coinvolto anche il comune limitrofo di Limana un piccolo comune che è considerato il paese del miele e la cooperativa Apidolomiti in qualità di esperti quello che abbiamo fatto è stato quello di installare due arnie didattiche una nel nostro comune e una a Limana in un parco cittadino appena fuori dal centro e la particolarità di questo progetto è che questa arnia didattica ha una webcam che è collegata ad un totem interattivo che è invece posto proprio in pieno centro dal quale si possono ricevere le informazioni in tempo reale di monitoraggio dello stato di salute dell'alveare quindi i parametri vitali vi condivido lo schermo solo un secondo per mostrarvi due immagini che così è più chiaro quello che di cui sto parlando ecco non so se adesso vedete se mi date un cenno sì perfetto grazie allora questa appunto è l'arnia didattica che abbiamo posto al parco come vedete ha una camera di volo abbastanza alta quindi non ci sono problemi di sicurezza anche per i bambini che possono giocare al parco tranquillamente e questo è il totem invece posto in centro con la webcam di monitoraggio in tempo reale di tutti i parametri vitali questi sono i parametri che possono essere visti sia sul totem e direttamente anche sul sito web collegato c'è anche un QR code direttamente sull'arnia didattica in modo che possa essere facilmente raggiungibile e appunto questo mostra in tempo reale la temperatura l'umidità e la quantità di miele quindi ecco è un progetto diciamo che ha una doppia componente se vogliamo qualcosa di innovazione tecnologica e dall'altro ovviamente la parte di educazione ambientale e quindi diciamo che se pensiamo alle tre sfere della sostenibilità questo progetto le tocca tutte ovviamente partendo da quella ambientale quindi di tutela della biodiversità e la protezione delle api in primis ma ha anche un aspetto importante sociale di sensibilizzazione e di formazione sono state previste anche diverse attività di sensibilizzazione in questi due anni e qualche attività che era prevista principalmente con le scuole è andata un po' a rilento ovviamente per gli ovvi motivi legati al covid ma li stiamo riprendendo adesso quindi adesso che i bambini si possono muovere uscire dalle scuole abbiamo già previsto anche in occasione appunto del 20 maggio un loro intervento al parco e ci sono tutta una serie di attività anche che appunto facciamo con le scuole sulla sensibilizzazione di questo tema e poi da ultimo io sono assessora al turismo quindi devo sempre pensare anche alla valorizzazione del territorio e quindi anche in ottica diciamo economica questo è sicuramente un aspetto interessante di marketing territoriale di valorizzazione anche dei prodotti locali io vi ringrazio e passo la parola al prossimo spero di essere stata in cinque minuti grazie perfetta perfetta Yuki De Miglia assessore del comune di Belluno Città Solo grazie anche per l'innovazione portata dentro un processo di grande interesse per più punti e adesso ci sarebbe lo spazio per Città della Pieve se è presente in online non so vediamo un po' se non è presente passiamo all'esperienza successiva perché Città della Pieve in provincia di Perugia ha realizzato col sindaco Fausto Risini un progetto di arnia urbana sulla falsariga di quello che abbiamo sentito da Belluno invece ora possiamo fare vedere l'esperienza diciamo internazionale ne abbiamo tantissime ma questo non è un convegno è una conferenza stampa e quindi chiedo venia ai nostri colleghi giornalisti che hanno i tempi contingentati ovviamente devono ritornare in redazione sia quelli in presenza che quelli online P.H.O. però meritava di essere portata come esperienza perché siamo dall'altro capo del mondo io vengo dalla fine del mondo diceva Papa Francesco all'arrivo a Roma e P.H.O. è in Colombia a circa 1200-2000 metri di quota a confini con la foresta pluviale perenne e qui i problemi come sono stati accennati di criticità sono decisamente superiori vi do solo un dato nella provincia del Quindio in Colombia dove si trova la città di P.H.O. tra il 2016 e il 2021 c'è stata una grandissima moria di api nel 2016 il 48% di tutti appunto le arnie del Quindio sono sparite quindi praticamente il 50% a causa dell'uso indiscriminato di chimica in agricoltura in particolare nelle coltivazioni del caffè e un pesticida che si chiama Friponil quindi ci sono i problemi ci sono anche le soluzioni bisogna solo esserne convinti fare massa critica essere tutti uniti per salvare le api ecco il messaggio che ci arriva da P.H.O. e poi vediamo questa è una zona di coltivazione della bacca del caffè che arriva peraltro anche in Italia anche i produttori di caffè italiani si riforniscono in queste zone sappiamo per certo questo è comunque è un appiario decisamente attivo e grande di produzione del miele il miele in sé abbiamo sentito un'attività economica di primaria importanza per molte popolazioni di montagna non solo nel nostro paese ma ovunque ecco sentiamo il contributo di Monica Flores che è l'ambasciatore Città Slow in Colombia Ciao a tutti sono Monica Flores di Città Slow di Città Slow in Colombia i bici sono cruciali per la riproduzione di bambini di bambini sono la multiplizia della vita nella provincia di Città in Colombia un massimo di bambini ha morto tra l'ambasciatore tra l'ambasciatore e l'ambasciatore questo è fatto per il uso di pesticidi di Città in 2016 48% di città di Città di Città di Città di Città alla indiscriminazione di agrochimiche di monoculture diversità in Colombia in provincia di Città di Città grazie a Monica Flores per questo contributo questa è la vallata di Pihau grazie e procediamo abbiamo con noi in presenza qui con noi lo ringraziamo il sindaco di Parrano e poi abbiamo anche il sindaco di Trevi due città slow umbre che hanno operato e operano da anni a favore appunto delle api e per le api prego Valentino filippetti sindaco di Parrano appiario buongiorno a tutti innanzitutto i complimenti a Città slow al presidente per un'iniziativa importante che coglie anche il momento giusto perché questo è il momento nel quale far cercare di far valere le ragioni non solo dei piccoli centri ma di queste tematiche recovery fund è un'occasione non bisogna perderla e il cittadino sta facendo un grande lavoro su questo bisogna dargli forza e questa è una delle iniziative importanti su quanto sia importante l'apicultura le api già è stato detto da persone molto più competenti di me nel nostro piccolo comune che è un comune in via d'estinzione ha perso il 70% degli abitanti nell'ultimo quarto di secolo l'apicultura è fondamentale non solo per la biodiversità ma anche perché può essere e già lo è oggi in qualche modo un elemento economico importante per sostenerlo l'amministrazione ha realizzato un apiario di comunità cioè delle armi e messi a disposizione dell'amministrazione comunale affinché i cittadini giovani imparino a coltivare appunto le api e a produrre il miele proprio domenica inizia un corso sono corsi gratuiti che ovviamente vedono il sostegno di apicoltori locali in maniera particolare Paolo Ferraldischi che è uno degli apicoltori più importanti della zona i cittadini e le cittadine che si impegnano in questo corso svolgono l'attività durante tutto il periodo e alla fine si portano a casa il miele questo è accanto a questo c'è anche un'altra iniziativa che io voglio qui citare perché credo non mi sembra che è stata finora posta che è quella dei servizi ecosistemici dal 2016 dalla finanziaria dal collegato alla finanziaria del 2016 è stata fatta una legge che tutela i servizi ecosistemici crea interesse per i crediti di carbonio però diciamo così una delle attività previste ovviamente sono quelle relative alle api è necessario operare una svolta perché laddove si è intervenuto a sostegno in genere si interviene sui proprietari dei fondi cosa importante affinché facciano delle coltivazioni di un certo tipo però sono importanti anche gli apicoltori perché sono il motore diciamo così fondamentale di questa di questa attività quindi noi insieme ad altri comuni altri cinque comuni abbiamo fatto un protocollo d'intesa e intendiamo promuovere nei prossimi anni appunto l'applicazione di questa legge e soprattutto creare una sensibilizzazione credo che anche Cittaslu possa diciamo così concorrere a questa si è d'accordo ma penso di sì per le cose che sono state dette a questo tipo di iniziativa grazie di nuovo a tutti grazie a te sindaco Valentino Filippetti e adesso in sala c'è anche Sperandio il sindaco di Trevi Trevi provincia di Perugia benvenuto Bernardino Sperandio Cittasluo il luogo è noto ai pendici del Monte Serano in una zona straordinaria tra la valle l'oliveto e il bosco esattamente grazie grazie per l'invito sì il nostro interesse diciamo recente per le api noi appunto come ricordava abbiamo questo interesse soprattutto per quanto riguarda le olive e tutta la realtà della fascia olivata che va da Sisi fino a Spoleto per cui abbiamo ottenuto recentemente il riconoscimento del FAO come paesaggio alimentare d'Italia per cui siamo il secondo dopo il soave in Veneto e anche il riconoscimento da parte del Ministero di Agricoltura del uno dei paesaggi uno dei sei paesaggi rurali storici d'Italia per cui siamo concentrati in questo ambito ma all'interno di questi oliveti noi abbiamo molti agricoltori che appunto hanno le loro arni all'interno di questi spazi e quindi fanno una buona produzione recentemente ci è venuta l'idea siccome noi abbiamo una rotonda della biodiversità cosiddetta sono quattro ettari di terreno dove c'è questo svincolo ma è un svincolo di una frazione praticamente quindi non è molto trafficato invece di di rasare il prato e quindi renderlo perfettamente elegante bello esteticamente accettabile dagli occhi dei cittadini di lasciarlo crescere e con avendo piantato già seminato delle piante che sono citate nel manifesto quindi stanno crescendo queste piante in maniera tale da avere due effetti uno è quello appunto di rendere belle anche questa questi spazi con dei fiori e quindi che crescono spontaneamente l'altro è quello di far capire anche alla gente che non è sempre necessario rasare i 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 quelle che sono i nostri elementi vegetali, che abbiamo sempre rispettato nella campagna, che adesso invece c'è questa cultura strana per cui bisogna assolutamente tagliare l'erba, tra l'altro con costi non indifferenti per il comune, ma che devono invece secondo me essere lasciati stare per un certo periodo, magari finché non c'è la sfioritura. Questo è una variazione al cambiamento culturale, perché oggi per un sindaco non tagliare l'erba significa perdere voti, e quindi però questo fa parte di questa nostra iniziativa, cioè di dire lasciamola stare queste erbe naturali crescere in maniera tale che poi c'è questo riscontro anche per quanto riguarda le biodiversità, e quindi per quanto riguarda il discorso delle api, che sono un elemento fondante del nostro territorio. E' uno sforzo, ma questo credo che la politica debba fare, cioè non debba andare dietro a idee un po' così retro, ma deve portare avanti idee nuove, e per questo io ringrazio la Città del Nuovo per questa iniziativa. Grazie a te, sindaco, e complimenti per quello che fate a Trevi. Adesso non so se è in linea il sindaco di Castel San Pietro Terme, Città Slow, l'impegno della città a favore delle api, Fausto Tinti, non so se è online, se c'è... Ci sono... Prego, Giancarlo Naldi, da Castel San Pietro Terme. Prego, allora, ne fa le veci di Fausto Tinti. Prego. Grazie mille, grazie per l'iniziativa, grazie per darmi la parola. Vi porto i saluti del sindaco che non ce l'ha fatta ad essere presente, saluti anche dell'amministrazione e del team che cura le manifestazioni alle quali si riferisce anche il manifesto. Io sono Giancarlo Naldi, sono il direttore di Osservatorio Nazionale Miele che ha sede qui a Castel San Pietro Terme, fondato, fra l'altro, 30 anni fa, oltre 30 anni fa, anche dal comune di Castel San Pietro Terme, oltre che dalle organizzazioni apistiche nazionali. Voglio esprimere subito l'apprezzamento per l'iniziativa, per i contenuti, ma è importante, bisogna proprio che si capisca che è importante muovere i comuni. I comuni sono veramente un centro di vita, un centro di interesse incredibile che può produrre la moltiplicazione degli effetti positivi della sensibilizzazione per questa materia così importante. Quindi noi, il comune ha subito aderito al manifesto, mi ha pregato appunto di esplicitare meglio come lo presenteremo e anche le iniziative che il comune, diciamo il comune era anche l'osservatorio, esprime e svolge nel corso dell'anno. Quindi sì al manifesto, sì alla presentazione del manifesto nel giorno proprio delle due giornate di Very Slow, che si terranno il 22 e il 23 maggio. A questo proposito, quindi massimo risalto al manifesto con il giardino delle api, cioè la riproduzione in piazza di questo ecosistema per le api, con il quale verrà riprodotto in miniatura l'allestimento, con questo allestimento, un habitat che invece si cerca di costruire, si sta progettando lungo una vallata, lungo un fiume, lungo la pista ciclabile costruendo, che si chiamerà appunto la pista delle api e con la piantumazione delle essenze suggerite da Città Slobì, ma anche quelle che l'osservatorio aveva già messo in un precedente studio, che sono più di carattere agricolo e di preservazione dei pendì, dei versanti, come il Tamerì e altri, perché dovremmo sapere anche questo, dovremmo divulgare anche questo, che le città, le essenze di interesse per le api sono quelle che danno nettare, ma sono anche quelle che danno polline, non danno nettare, cioè il Tamerìce non dà nettare, però il Tamerìce dà polline, quindi serve per il nutrimento, diciamo, proteico dell'ape, per il suo mantenimento, eccetera. Quindi il Comune fa queste iniziative, ma ci tiene a evidenziare anche la manutenzione del proprio verde in modalità sostenibile per gli impollinatori, quindi api e altri impollinatori, la lotta all'esanzare con modalità sostenibile per le api e per gli impollinatori, non solo, ma anche lo svolgimento di almeno due corsi all'anno per operatori e per privati al fine di promuovere queste modalità compatibili anche per i privati, per l'annutenzione del verde privato e per gli operatori che svolgono queste attività. Ovviamente come osservatorio mi sento particolarmente vicino a tutti i temi che sono stati approfonditi, non ultimo, anzi diciamo ai primi livelli, quello della ricerca nei mieli, degli indicatori di compatibilità ambientale. Noi analizziamo, ho sentito alcuni interventi a questo proposito, soprattutto adesso non mi ricordo i nomi, ma quello di una zona protetta di un parco. Di Monte Ruffeno, sì. Ecco, bravissimo, questa qua, col quale mi piacerebbe aggangiare dei rapporti. Noi analizziamo con il concorso tre gocce d'oro oltre 1200 mieli all'anno e ovviamente li analizziamo non solo dal punto di vista della qualità oggettiva e della caratterizzazione che è importantissima, come veniva detto, oltre 60 tipologie di mieli monoflora, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ed è un problema, cioè è bene veramente anche fare presente, sensibilizzare le autorità su questi problemi. Il glifosate è un problema, non è un problema la quantità per adesso, perché non dobbiamo creare allarmismo, dobbiamo essere i primi ad essere responsabili, a parlare di essere responsabili. Però c'è da dire che l'aumento del numero di mieli che contiene tracci di glifosate è notevole e quindi deve preoccupare e deve indurre le autorità a regolamentare l'uso di queste molecole assolutamente. Altre ovviamente ricerche, neonicotinoidi, gli alcaloidi pirlozidinici che stanno per essere normati a livello europeo. Il piombo l'abbiamo fatto su tutti i campioni, fortunatamente non ci sono più emergenze, gli antibiotici pure. Un problema invece nuovo, che deriva dal cambiamento climatico, che veramente oltre a quello dei pesticidi, rischia di essere il problema più pesante, è quello degli zuccheri anomali nel miele. Cioè, considerato come in questi giorni, che per il freddo che c'è stato, per il vento che c'è stato, le api non riescono a nutrirsi nemmeno in presenza delle fioriture, l'apicoltore è costretto ad alimentarli, a dare zuccheri. E questi zuccheri a volte, quando vengono dati proprio nella stagione produttiva, rischiano di rimanere, di andare nel miele. Poi c'è la ricerca del DNA, eccetera. Quindi noi, con queste iniziative, il Comune, l'Osservatorio Comune, saremo presenti in queste due giornate e saremo presenti con l'attività di istituto. Io non dico altro, perché ho superato i cinque minuti, e se volete, l'Osservatorio Nazionale Miele è il punto di riferimento da questo punto di vista per il settore e anche per le istituzioni. Grazie. Grazie a te Naldi e a Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, area metropolitana. Conosciamo bene la vostra città slow e siamo anche felici che abbiate, ho sentito tra le righe, che avete riaperto Very Slow, Città Slow, la vostra fiera annuale. Vuol dire che siete in riapertura. Adesso abbiamo concluso gli itinerari che avevamo prefissato, ma abbiamo online, anche se sono ancora online, il sindaco di Tolfa, Luigi Landi, abbiamo Enrico Giovanardi da Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Claudio Novoa, sindaco di Mulazzo, e poi, non so, ecco, se qualcuno volesse intervenire a portare un saluto, altrimenti ci avviamo alle conclusioni. Vediamo. Allora, possiamo procedere, direi che... possiamo andare verso le conclusioni. Ovvio, il manifesto che presentiamo oggi è reperibile, ovviamente online, sul nostro sito di Città Slow, www.cittaslow.it o www.cittaslow.org, a disposizione di tutti, con le documentazioni allegate sui dati e su quello che faremo. Sicuramente terremo conto di tutte le esperienze nella rete che abbiamo solo potuto accennare come campionatura. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità, grazie a tutti i relatori e la parola al presidente Mauro Migliorini, sindaco di Asolo. Solo per salutare tutti, nuovamente ringraziare... Non si sente. Adesso mi sentite? Adesso mi sentite? Grazie. Era solo per ringraziarvi della presenza, della partecipazione e direi anche con partecipazione con sia con le varie redazioni che sono state fatte, i vari esempi concreti che sono stati portati. Io chiudo riportando, ho preso nota di alcune parole con i termini o parole che sono state usate più spesso nei vari interventi da api a biodiversità, ambiente, paesaggio, miele, sensibilizzare, buone prassi, innovazione, sostenibilità, valorizzazione, marketing, territoriale, ecosistema e guarda caso sono anche tutti tutti i termini che che ultimamente in questi ultimi mesi per la ripresa post-covid vengono utilizzati su larga scala. Penso che le nostre città, quando parlo di città intendo sia Città Slow ma anche le città del Miele, visto che ci compartecipiamo, collaboriamo assieme per il manifesto Città Slow i piccoli borghi sono degli esempi concreti di come si possa fare utilizzando ciò che ha detto prima Valentino Filippetti buona politica e buona amministrazione a livello territoriale. Io chiudo con questo il manifesto lo potete scaricare come è stato detto dal nostro segretario nel sito di Città Slow vi ringrazio e ci sentiamo presto. Grazie a tutti. Saluti, grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Grazie a tutti.